Colpo di scena ragazzi, al giorno numero 74 decido di concludere la serie Facciamo copy trading insieme, ma è soltanto la fine della prima stagione Adesso andremo a tirare le somme, ma prima vi spiego perché ho preso questa decisione Nel video che ho fatto sabato credo, dove vi facevo vedere anche il pdf Che potete trovare al link copytrading.michelemaraglino.com Comunque lo trovate in descrizione Ho raccolto tutti i trader italiani, avevo annunciato sabato che avrei cambiato trader Ma il weekend mi ha portato consiglio e ho deciso di concludere la prima stagione oggi Adesso vi spiego tutto, comunque se andate su copytrading.michelemaraglino.com Potete scaricare gratuitamente, vi ho fatto un elenco di tutti i trader italiani che potete seguire Cioè il nome e il link al profilo BitGet Quindi per tutti quelli che vogliono seguire, copiare trader con una strategia trader italiani Andate su copytrading.michelemaraglino.com Comunque il link è in descrizione, mettete il nome e la mail, vi arriva il pdf gratis Li ho raccolti tutti per voi Torniamo a noi Come ho annunciato in quel video, la mia serie Facciamo copy trading insieme Eravamo giunti al punto in cui appunto, scusate il gioco di parole, stavo seguendo the server trade E praticamente ha aperto questa operazione Che mi ha fatto un meno 195.84%, mi ha bruciato il conto Gli avevo dato a questo nuovo trade Comunque guardatevi tutta la serie, c'è il link Se non avete mai visto il mio video Iscrivetevi al canale Poi c'è la playlist nell'home page di questo canale youtube Che si chiama Facciamo copy trading insieme E' la serie 74 giorni dove ho provato 4 trader O 3, non mi ricordo Comunque trovate tutto lì Dove abbiamo imparato un sacco di cose insieme E veramente oggi c'è l'ultimo grande insegnamento E quindi la concludo Perché credo di aver acquisito la consapevolezza giusta Per poi, e qui spoiler, ripartire con la nuova stagione Ci sarà una seconda stagione di Facciamo copy trading insieme Dove avremo più budget Ok? La seconda stagione si differenzia dalla prima Perché avremo più consapevolezza E adesso, oggi, nell'ultima puntata Vi vado a riepilogare tutto quello che ho imparato E quindi possiamo gestire più budget Ovviamente non sono consigli finanziari Ragazzi, questi video servono solo a informarvi Ispirarvi, ok? E anche a farvi vedere gli errori In modo che se li faccio io Poi magari voi li potete evitare Però, prima, guardate, studiate Io non sono un consulente finanziario Non sono un trader Sto solamente provando e mettendo in mostra In modo bellissimo e trasparente per tutti voi La mia esperienza E quindi voi ne potete trarre giovamento Ma, ovviamente, poi dovete approfondire Se volete, comunque, in descrizione La piattaforma che stiamo usando è BitGet Trovate il mio link per iscrivervi a BitGet Che vi dà diritto al 10% di sconto a vita sulle fee E in più un bonus sul primo deposito Ok? Questa è una promozione valida fino al 30 aprile Vedete la tabella qui In base a quello che depositate Potete avere fino a 100 dollari di bonus Quindi, iscrivetevi al link I bonus vengono distribuiti ogni lunedì Oltre, quindi, ad avere il 10% di sconto sulle fee Quindi, utilizzate il mio link In descrizione ci trovate anche tutti i tutorial su BitGet Se è proprio la prima volta che guardate il mio video Non sapete cos'è BitGet Un account Un exchange Per fare copy trading Il mio preferito Andiamo a vedere, quindi Quest'operazione Io nel video precedente avevo detto No, basta I server trade hanno sbagliato Hanno messo Andiamola a vedere La loro L'operazione Perché loro in realtà L'hanno lasciata aperta Stanno recuperando Perché effettivamente Bitcoin È sceso Sotto i 30.000 Andiamo su ordini Andiamo su copy trade E guardate Meno 117% È questa l'operazione incriminata Delle 21 e 12 No, delle 21 e 21 di Pasqua Ma qual è stato l'errore? Che cosa ho sbagliato? Forse l'ho già accennato nel video precedente Comunque Ho sbagliato completamente La size Ovvero Quanto dare per ogni singola operazione Non è che l'ho sbagliata Più che altro è Quello che ho imparato Grazie a questa ulteriore esperienza Che ho documentato qui sul canale Ed è meraviglioso Iscrivetevi perché E guardatevi gli altri video della serie Perché veramente Guardateli però perché Si impara giorno dopo giorno E già Già Si impara Sulla propria pelle Ok? Ed è difficile Tanti di voi Nei mesi precedenti Mi avete scritto Ma stai sbagliando la size Stai sbagliando la size Ma se non ci sbatti tu la testa Io non è che Non solo sbagliavo la size Ma non gli davo la giusta importanza Perché non avevo capito L'importanza della size Loro The server trade Dicono Seguitemi Anche qualcuno di voi Me l'ha scritto Seguite Fate Copiateci Con il 10% Del vostro capitale Io gli avevo dato 200 USDT Loro mi avevano portato A 368 USDT Quindi Wow Euforia Boom Aumentiamo la size A 150 USDT Ad operazione No ragazzi No Ecco perché ho bruciato il conto Se io su 300 Mettevo il 10% Ovvero 30 A quest'ora Al massimo avevo perso 30 USDT Ma non mi ero bruciato il conto E anzi Ero ancora in gara Perché nel momento in cui tu Vai sotto L'operazione Magari è di 30 USDT Tu ne hai 300 Magari sbagliano Vai sotto Se hai Un Po' di margine Cioè hai altri soldi Sul tuo account future Puoi continuare a restare aperto Poi dietro Loro Comunque Io ci ho parlato sabato Con Alexander Lex Il grandissimo Alexander Lex Ha anche un canale YouTube Bellissimo Seguitelo Andate su YouTube Alexander Lex E iscrivetevi E lui Diciamo Il trader con cui ho parlato Sempre Per quanto riguarda The server trade I trader di questa Diciamo community Bene Lui mi ha detto Se avevi messo il 10% Eri ancora In ballo Assolutamente E loro Avevano fatto Quest'operazione Ovviamente Ci sono rimasti Un po' incastrati Però lui mi ha detto Guarda che Per noi La strategia Cioè L'operazione è buona Magari abbiamo sbagliato Il timing Nel senso Il momento in cui Entrare Ma guarda che Bitcoin scenderà Ed effettivamente È sceso Ok Da 30.000 Tutti pensavano salisse Invece Sta scendendo A quanto siamo In questo momento 29.863 Prezzo Prezzo attuale Quindi Che cosa ho sbagliato Ho sbagliato La size Quindi una regola Che ci portiamo a casa Se facciamo copy trading Dobbiamo conoscere Il trader Ok Dobbiamo conoscere La sua strategia Dobbiamo dargli Del budget Dobbiamo mettere Per ogni operazione Il 10% Di tutto il budget Ok Di solito è così Magari potete anche sentire Il trader E vi ho messo Vi ho fatto un pdf Con tutti i trader italiani Scaricatelo Andate su Copy trading Punto michele maraglino Punto com Trovate il link In descrizione Dove trovate tutti i trader italiani Queste cose Vi salvano Il conto Quindi Decidi un budget Per ogni operazione Io poi vi consiglio Seguite soltanto Usd Seguite soltanto Bitcoin Ed Ethereum Li date 3-400 Usd Mettete Ad ogni operazione Il 10% Quindi 30-40 euro Ad operazione E se Vi fidate del trader Avete scelto bene Avete conosciuto bene Ovviamente ci vuole un periodo di conoscenza Lo seguite tutto per tutto Lasciate fare a lui Sia la leva Che lo stop loss Che quant'altro Assicuratevi che Faccia Che utilizzi lo stop loss Però dietro a dei trader Ci sono delle persone Ok E si Siamo tutti bravi a dire Ok Faccio la mia strategia E Faccio così Metto lo stop loss Al 30% Ma la cosa più difficile Nel trading Che ho sperimentato Anche io sulla mia pelle È proprio rispettare La strategia Che ti sei dato Ok Quindi può succedere Che tu dici Cavolo Sono entrato male Ho sbagliato Però cavolo La lascio andare E se Tu segui un trader Che regolarmente Mette lo stop loss Ma Magari una volta Capita A volte capita Che delle operazioni Ha bisogno di più tempo Per recuperarle Perché ha sbagliato qualcosa Se tu hai impostato Tutto male Cioè Hai impostato Una size enorme Hai impostato Sì Sostanzialmente quello Non hai messo Non hai margine Sul conto Cioè Magari hai 200 USDT Gli dai 200 USDT Ad operazione Non ci sono altri soldi Quello ti brucia il conto Quindi Bisogna mettere Un budget Nella sezione Future Ma Di quel budget Bisogna utilizzare Solo una piccola parte Ovvero il 10% Il 5-10% In modo che Se succede qualcosa Noi possiamo recuperare Non ci brucia il conto Però A questo bisogna aggiungere Il fatto Che bisogna seguire Un trader Di cui Di cui ci fidiamo Che ci piace Che abbiamo conosciuto E a me i ragazzi Di The Server Trade Ok Hanno fatto guadagnare E se Avevo impostato Tutto bene Quest'operazione Sono sicuro La recuperano Ok O comunque Riducono le perdite Vanno avanti E tanto bisogna vedere Nel lungo termine Sul lungo periodo Ok ragazzi Quindi che cosa abbiamo imparato Facciamo il mega Recappone Di fine stagione Una grande stagione Scrivetemi nei commenti Michi ma che stagione Hai fatto Allora facciamo Prima di tutto Il calcolo Di quanto abbiamo guadagnato Non abbiamo guadagnato Nulla Però vi dico Quanto abbiamo perso Abbiamo perso Abbiamo perso Questi altri 200 USDT Eravamo Con gli altri trader Avevamo perso 341 USDT Quindi Tutto questo Tutta questa conoscenza Che abbiamo imparato Sul campo Ci è costata 541 USDT Quindi siamo Meno 541 USDT L'avevo scritto Da qualche parte Meno 541 USDT La prima stagione Si conclude In negativo Ma questi 541 USDT Almeno personalmente Non li ritengo Assolutamente persi Ma Soldi che ho speso Per imparare E ho imparato Veramente Perché è un conto Studiare sui libri Un conto È fare l'esperienza Vedere che le posizioni Si chiudono Vedere quelle mail Che ti avvisano Che il conto Sta per essere liquidato Quelle mail Che ti dicono Che il conto È stato liquidato È tutta esperienza Ok Quindi Per me sono 541 dollari Investiti E che cosa ho imparato Ho imparato Che Puoi cercare Dei trader Poi puoi attuare Diverse strategie Però Che cosa ho imparato Che quando cerchi Il trader Devi andare a controllare Comunque la sua operatività Ok Perché Si può nascondere Dietro ai numeri Qui non vuol dire niente Devi andare a vedere Gli ordini Diciamo No Sì La cronologia Per esempio The server trade Vabbè Loro Si prendono grossi rischi Anche sulle altcoin Però Su bitcoin e ethereum Che è quello che secondo me Consiglio di seguire Soltanto bitcoin e ethereum Così si corrono meno rischi Ti vai a vedere Singole operazioni Ti vai a vedere Se Ci sono degli stop loss E di che Cioè se Hanno chiuso Delle operazioni In perdita E di quanto Se trovi operazioni Se trovi tutte operazioni Così da Meno 115% Su bitcoin e ethereum Scappa Immediatamente A meno che O Meno 277 Poi In realtà Questo non vuol dire niente Perché se tu poi imposti Quindi oltre A Spulciare gli ordini Devi anche però In realtà Conoscere Il trader Ok Quindi segui un trader Che 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 conosci Sarebbe la cosa ideale Con cui ci puoi parlare Ti spiega la sua strategia E ti dice Guarda Metti tot E seguimi al 10% Perché vedere un meno 186% Così Può non voler dire Anche niente Ok Quindi la size È importantissima Quindi cerchiamo Un trader Che usa lo stop loss Mettiamo del budget Sul conto Budget Che siamo disposti a perdere Questa è la regola principale Che ne so 500 USDT Ok Metti 500 USDT Segui il trader Su bitcoin e ethereum E ad operazione Gli metti Io metterei anche 25 Proprio per stare sicuri Mettete il 5% Dal 5 al 10% Gli metti 25 USDT Soprattutto se hai scelto Un trader che usa leve alte Gli metti 5% Le size Quindi ogni operazione Mi apri Mi apri operazione Da 25 dollari Quindi Se ha 10 operazioni Da Solo 250 Ok Se la metà di queste operazioni Vanno male L'altra però va bene Quindi recupera In realtà Io metterei anche Più budget E infatti Nella prossima stagione Voglio partire Dalmeno 1000 USDT E copiare Al Io farei Al 5% Budget 1000 USDT Sul conto Future Sites Da 50 USDT Probabilmente Continuerò Quando è server trade Vedremo Tutta un'altra Storia Ok Quindi Grande finale di stagione Fatemi sapere nei commenti Che cosa ne pensate Di quello che abbiamo imparato Stop loss Seguire un trader Di cui conosciamo la strategia E che utilizza Lo stop loss Impostare bene il budget Mettere il 5-10% Dell'intero importo Che abbiamo messo Sul conto Future A disposizione Delle singole operazioni E questo Ragazzi Cioè Detta così Può sembrare semplice Ma tu non lo vai Se non ci sbatti la testa Tu non lo capisci Io almeno io Questa cosa della Sites L'ho capita tardi L'ho capita adesso Quando io ho bruciato il conto Mentre loro sono ancora aperti E se io avessi Eccoci qua Ovviamente Queste cose Non devono essere All'ordine del giorno Posso capire Che uno fa un errore Una volta Ogni Una volta al mese Ma neanche Una volta ogni tanto Però Non dobbiamo essere Nella condizione Che se quello Fa un errore Poi noi ci bruciamo il conto No Dobbiamo essere Nella condizione Che se lui fa un errore E recupera Recuperiamo anche noi E questo Lo si fa Settando il tutto Correttamente Abbiamo imparato Un sacco di cose Riguardatevi Tutti i video Prima stagione Si conclude A meno 541 dollari Ma ripartiremo Con la seconda stagione Quindi iscrivetevi al canale Seconda stagione Dove Ci sarà un budget alto Mille Almeno mille Se non di più Usdt Quindi iscrivetevi al canale Se volete Provare Voi il copy trading Dopo che vi siete visti Tutti i video Di tutta questa stagione Mi raccomando Perché Non sono così Finanziari Non sono un consulente Si perdono soldi L'avete visto Ok Io ho testimonato La mia esperienza Però se volete fare esperienza Anche voi Magari vi guardate Tutta la serie C'è la playlist E poi Andate in descrizione Vi iscrivete con il mio link Avete il 10% di sconto Sulle fee A vita E in più I bonus Secondo questa tabella In base al vostro Primo deposito Ok In descrizione Trovate il link Per iscrivervi Per avere lo sconto Sulle fee E il bonus Fino a 100 dollari Di bonus I bonus Vengono distribuiti Ogni lunedì Ci sono gli ultimi posti Quindi iscrivetevi oggi Poi se andate su Copytrading.michelemaralino.com Avete l'elenco Dei trader italiani Che potete seguire Più di questo ragazzi Iscrivetevi al canale Perché veramente Ne vedremo delle belle La seconda stagione Sarà ancora più emozionante Budget 1000 2000 USDT E andremo a bomba A vedere Che cosa succede Con la size giusta E con il trader giusto Io mi sento Di dare ancora fiducia A the server trade Perché Alla fine Si valuta Nel lungo periodo I ragazzi Mi sembrano Capaci Di cadere E rialzarsi Che è la cosa più importante Se voi volete Cambiare trader Andate a scaricare Il pdf Vedete tutti gli altri Dei trader italiani Su Copytrading.michelemaralino.com Grazie a tutti Fatemi sapere Commentate Se vi è piaciuta Questa serie E se siete pronti E carichi Per la seconda stagione Vi aspetto nei commenti Noi ci vediamo Alla prossima stagione Di Facciamo Copytrading Insieme La serie Ciao